L'esploratore di fama mondiale, Mason James, è alle prese con gli ingranaggi di un'elicottero. Wow! 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 A quanto pare c'è una consegna urgente per me a quel centro postale FedEx. Wow! C'è mancato poco. Salve, signor Mason James. Ho un pacco per lei da sua sorella, Kyla. Wow! Forti! È un'antica tavola di pietra. Rispondi, Mason James. Ci sei. Sono qui. La tavola di pietra che mi hai spedito è davvero bella. È una mappa? Hai indovinato, Mason James. Devi usare quella mappa per trovare tre medaglioni d'oro nascosti il prima possibile. Il pianeta potrebbe essere in pericolo. Mi trovo su un'isola sperduta con un mega vulcano che potrebbe ruttare a momenti. L'unico modo per fermarlo è trovare quei medaglioni e portarmeli. Sto arrivando. Nessun problema. In realtà, un problema c'è. L'elicottero è senza carburante. Questa missione si fa sempre più difficile. Al nostro pianeta, servi tu. Devo riuscire a consegnare quei medaglioni. Consegnare? Mi serve qualcosa per consegnare una consegna. Aspetta un momento. Sì! Mason James usa le coordinate sulla mappa mentre corre verso il primo medaglione. Speriamo che questo furgone sia veloce. Con le consegne. Questo fiume è enorme. Ci vorrà una vita per girarci intorno. Se riesco ad arrivare al porto prima che parta il traghetto, allora posso attraversare il fiume. Mason James, i vulcanologi dicono che il mega vulcano potrebbe devastare il pianeta. Hai il primo medaglione. Non riesco a trovare le coordinate esatte. Oh oh! C'è qualcosa sotto il traghetto che ci fa rovessare! È un anaconda gigante che assomiglia al simbolo del serpente sulla tavola di pietra. Seguiamo quel serpente! Attenzione! Perché il serpente ci ha portati qui? Un momento, c'è qualcosa lassù. Forse con un leggero colpo del traghetto potrebbe funzionare. Preso! Ho il primo medaglione e mi sto dirigendo alle prossime coordinate della mappa. Ottimo lavoro, Mason James. Continua così. Oh oh! Il tempo sta scadendo, fratellino! Secondo la mappa dovrei arrivare dritto a... Oh oh! Uh! Per un pelo! Ehi! Queste pietre giganti riportano dei simboli. Un quadrato, un triangolo, un cerchio e un rombo. Il prossimo medaglione dovrebbe riportare un rombo. Ci sono! È un enigma gigante! Ma queste pietre sono troppo pesanti da spostare. O forse no. Mason James manovra con abilità il bulldozer per spostare le enormi pietre. Ci serve un altro giro. Oh, forse non è stata proprio un'ottima idea. Ecco il medaglione! Woohoo! Ho il secondo medaglione. Ne manca solo uno. E a quanto pare il terzo medaglione si trova in Australia. Sto correndo lì! Non c'è tempo, Mason James. Non riuscirai mai ad andare in Australia e a tornare qui in tempo per fermare il vulcano. Allora verrò da te con due medaglioni. E mi è venuta un'idea folle per recuperare il terzo. Bene, bene, bene. Se non fosse per il mio storico rivale, Mason James. Emerson Felix, la vecchia rivale del celebre esploratore, Mason James, sta facendo un bel giretto con la sua Land Rover lungo la Gold Coast australiana. Perché non riesco a trovare dell'oro? Bene, bene, bene. Se non fosse per il mio storico rivale, Mason James. Mason James sfreccia su un'autostrada in Francia. Poche chiacchiere, Emerson. So che sei in Australia e mi serve il tuo aiuto. Scusa, Mason James, ma ho da fare. Dimmi, per caso sai dove si trova l'oro sulla Gold Coast? Emerson! Si chiama Gold Coast per le bellissime spiagge dorate. Oh. Ascolta, c'è un medaglione segreto con sopra un canguro, nascosto in Australia. Se non mi aiuti a trovarlo, un megavulcano elutterà spargendo ceneri e lava su tutta la terra. Adoro i medaglioni e... Salvare il mondo sembra piuttosto importante. Simo. Ti aiuto. Mandami le coordinate di quel medaglione. Così dovrebbe andare. È meglio che senta Kaila. Kaila, come sta andando con il megavulcano? Abbiamo fatto evacuare l'isola, ma il vulcano potrebbe ruttare in ogni momento. Non credo tu abbia il tempo di prendere il terzo medaglione. Non preoccuparti. Emerson Felix è in Australia adesso e lo sta cercando. Emerson Felix, non puoi fidarti. Potrebbe farti uno dei suoi scherzi. Questa missione è troppo importante. Ce la farà. Questa volta dobbiamo fidarci. Mason James, non c'è niente qui fuori. Emerson Felix attraversa l'entroterra australiano alla ricerca del medaglione col canguro. Sto facendo il giro dell'oca. Ehi, c'è davvero un'oca? Oh, quello è un emu. Mi auguro sia un medaglione speciale. Mason James si dirige verso il traghetto. Emerson, hai trovato il medaglione? Ho seguito le coordinate, Mason James. Ma non ci sono canguri né medaglioni nei paraggi. Solo rocce, rocce e ancora rocce. Credimi, sta lì. Deve esserci una specie di enigma per trovarlo. Prova una nuova prospettiva. Guarda le cose in modo diverso. Aha. È assurdo, Mason James. Percorrere questo promontorio con la mia Land Rover per aiutarti a trovare... Ehi! Un canguro! È un canguro! Ho trovato il canguro! Ce l'ho fatta! Sono la miglior cacciatrice di tesori di sempre! Emerson! Emerson! Emerson, vedi il medaglione? Au! Qualcosa mi abbaglia la vista. Uh! Sì! C'è un medaglione d'oro che brilla nell'occhio del canguro! Grandioso! Ora, ti prego di portare quel medaglione al mega vulcano il prima possibile. Vado! Presto, Mason James. Il tempo è quasi scaduto. Accelera! Wow! Sono qui, Kyla! Perché ci hai messo così tanto, Mason James? Emerson! Ce l'hai fatta! Andiamo! Seguimi! Non c'è un secondo da perdere! Dobbiamo mettere il medaglione col serpenti. Quello con il rombo e quello col canguro nella lastra di pietra. Ora! Sta funzionando! Presto, Emerson Felix. Metti l'ultimo medaglione al suo posto. Forse non serve usare tutti e tre i medaglioni. Magari potrei... ...tenere questo? Va bene, Kyla. Voglio dire, Emerson Felix. Ah, è difficile separarsi dai propri tesori, ma se serve per aiutare il mondo... Puoi farlo! Ce l'abbiamo fatta! Emerson James, perché il suolo si sta surriscaldando? Avremo pure salvato il mondo, ma le cave sotto il mega vulcano sono piene di lava! Andiamocene da quest'isola e di corsa! Mentre corre via dall'isola... ...Mason James riceve un messaggio importante da FedEx. La missione non è ancora compiuta! Questo furgone contiene un pacco che va consegnato a quell'autolavaggio. Dopo aver salvato il mondo, penso che ci siamo meritati di lavare le nostre auto. Andiamo! Meson, Kyla, forza! È arrivato il furgone del trasloco! Dimmi, pensi che vedremo mai quei medaglioni d'oro? Di nuovo? Non si sa mai, Emerson. Come noi, stanno per iniziare una nuova fantastica avventura! L'esploratore di fama mondiale, Mason James e sua sorella, sfrecciano attraverso la città in una corsa rocambolesca alla massima velocità! Il primo ad arrivare allo stadio si aggiudica una fetta di pizza in più, Mason James! Intendi una fetta in più della pizza più grande del mondo! È il settantesimo anniversario della città di Matchbox! E si festeggia battendo il record della pizza più grande del mondo! Ecco lo stadio! Sì, ha vinto! Eh, Mason, dov'è la pizza supergigante? Non saprei. Ma l'intera città si farà viva presto, aspettandosi un sacco di pizza. Conviene scoprire che cosa è successo. Io adoro il profumo della pizza! E quella è un'enorme pizza! Wow! Mason James, grazie al cielo è qui! Ho fatto la pizza più grande del mondo, ma ho dimenticato che mi servirebbe anche il mezzo per trasportare la pizza più grande del mondo. Niente paura, con il lavoro di squadra possiamo fare tutto. Se la pizza non arriva allo stadio entro 30 minuti, diremo addio al record del mondo! La folla comincia ad avere fame! Li sento da qui! Ricevuto! Con una pizza del genere dobbiamo pensare in grande. Seguimi, sorella! Ma certo, questi macchinari enormi possono trasportare di tutto! Già, possiamo usare lo scavatore Matchbox, che è ancora più grande, per portare in un attimo quei macchinari enormi alla pizza. Forza, carichiamoli! Ecco che arriva il bulldozer! Carichiamo il bulldozer! Ecco che arriva l'autotrasportatore! Carichiamo l'autotrasportatore! Ecco che arriva la livellatrice stradale! Wow! Sono un sacco di veicoli da costruzione, Mason James! Non saranno mai abbastanza! La pizza più grande del mondo incontra lo scavatore più grande del mondo! Mason, fermati! La pizza sta scivolando! Wow! Dobbiamo tenere la pizza perfettamente in piano mentre la trasportiamo! A quanto pare ci servono rinforzi! Sicuramente abbiamo fatto bene a portare tutti questi mezzi di costruzione pesante! Fate largo per il bulldozer! Qualcuno ha ordinato un grande autotrasportatore! Non si può fare un pizza party senza una livellatrice stradale! Non ci saranno feste se non portiamo in fretta questa pizza allo stadio! D'accordo, squadra! Dobbiamo lavorare insieme e in fretta! Non possiamo sbagliare! Quando ve lo dico io, raggiungete i vostri posti nel modo più veloce e preciso possibile! Tieni la ferma, Mason James! Piano... Aspettate... Ci siamo! Via, via, via! Sì, ha funzionato! D'accordo, squadra! Scaldate i motori! Brrrr... 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 Ops! Scusami! Brrrr... La pizza più grande del mondo sta per arrivare! Oh, mamma! D'accordo, squadra! Andiamo! Tenetevi pronti! Giriamo a sinistra! E... A destra! Ora! Wow! L'altra a destra! Oh no! La pizza! Oh! Presa! Oh! Cavalca via! Trenate! Ora! Via, 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 via! Quasi lì! Sì! Sbrighiamoci! Ce l'abbiamo fatta! Oh, ma... Non c'è modo di portare la pizza dentro lo stadio! A quanto pare non riusciremo a battere il record mondiale! Oh, sì che lo faremo! Questa gru gigante consegna sempre! Oh, chi ha ordinato la pizza extra, 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 extra large? Questa sì che è una grande pizza! Le fette di salome sono più grandi di me! Ce l'abbiamo fatta! Ehi, Mason! Vieni anche tu! Uscita veloce! Attenzione lì sotto! Ottimo lavoro! Grazie al nostro lavoro di squadra, la città di Matchbox ora detiene il record per la pizza più grande del mondo! Sì! Peccato che non abbiamo pensato alla bibita più grande del mondo! Sulla cima della montagna, appena fuori la città di Matchbox, Mason James cerca ossa di dinosauri per la nuova sezione di storia naturale del Museo di Scienze! Mason James, va piano e fa attenzione! La paleontologia richiede pazienza e precisione! Scusami! Sono al settimo cielo! Il radar a penetrazione terrestre indica qualcosa di enorme a pochi metri di profondità! Potrebbe essere un Tyrannosaurus Rex! Sarebbe perfetto come prima esposizione nella nuova sezione del museo! Wow! Eccolo qui! Ed è un T-Rex! Con uno scavatore prenderò quel teschio di T-Rex in un attimo! Fa con comodo, Mason, e agisci al meglio! Altrimenti qualcosa potrebbe andare molto storto! Oh-oh! Penso che potresti aver ragione sul fatto di andarci piano! Ok, Mason James! Molto lentamente usa la pala per evitare che il teschio ruzzoli giù dalla montagna! Ricevuto! Con garbo e lentamente... Con garbo e lentamente... Scavare troppo in fretta di certo solleva un sacco di polvere! Ah! 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 Su! Oh-oh! Oh-oh! No! Attento! Mason James! Fa qualcosa! Presto! Mi hai appena detto di rallentare! A volte la cosa migliore è agire con calma e attenzione! Ma adesso ci serve qualcosa di potente per fermare in fretta quel dinosauro! Non serve dire altro! Ho la macchina perfetta per questo lavoro! Il teschio è diretto proprio in città! Il nuovo museo di storia naturale diventerà un ricordo se non fermiamo quel dinosauro in fuga! Sapevi che in realtà il T-Rex camminava più lentamente degli umani? Non è il momento delle curiosità! Wow! Quel teschio è veloce! Wow! Wow! Torna qui! Wow! Wow! Questo bulldozer non riesce a prenderlo! Ma io posso costruire qualcosa per fermarlo! Se costruiamo rapidamente un muro, possiamo fermare quel teschio prima che distrugga il museo! Ci sono abbastanza rocce per un muro alto quanto basta! Salve! A quanto pare serve aiuto per costruire quel muro! Grazie! Ci servono tutte le rocce, i detriti e lo sporco che riusciamo a trovare! Lo sporco ci manca, ma abbiamo questo! Un bagno chimico! L'ho preso oggi! Credo che la mia squadra possa tenerlo per un po' se serve a fermare il T-Rex! Ah! Immagino che un bagno chimico possa anche fare da muro antidinosauro! Solleviamolo! Allontanatevi! Bagno volante in arrivo! Ups! Meno male che è vuoto! Grazie! Ora il nostro muro assomiglia un po' più a una rampa! Quel dinosauro si lancerà dalla rampa per distruggere il museo! Mason James ha rafforzato il versante della montagna con l'idea più pazza che abbia mai avuto! Oh! Così non va bene! Sbrigati, Mason James! Oh no! Oh no! Preso! Sì! Bella presa! Spero che tu abbia imparato che ci sono momenti in cui agire in fretta e momenti in cui andare piano e fare attenzione! Certo che sì! Farò molta attenzione quando torneremo al sito archeologico! Bene! Ci vediamo lì! L'esploratore di fama mondiale, Mason James, usa il suo escavatore per sollevare un pesante macigno! E sua sorella Kyla usa la sua ruspa per sollevare un macigno della stessa portata! Ben fatto! Ma vediamo quale mezzo riesce a portare a termine il lavoro! Beh, siamo di nuovo pari, Mason James! Woohoo! Wow! Hai fatto tu quel suono! No! È il fischio di un treno! Significa che il treno con il nostro nuovo rullo compressore è vicino! Raggiungiamo la stazione! Uh! Quel rullo compressore è perfetto per ripavimentare le strade della città! Ci serve di sicuro! Faremo tardi! Meglio chiamare l'ingegnere ferroviario! Chia cia 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 cia! Brum brum! James chiama Matchbox Express! Mi sentite? Pronto? Pronto! Oh oh! La radio è fuori uso! Speriamo che il treno ci aspetti alla stazione! Andiamo! Brum brum brum! Mason James! Attenzione! C'è una frana! Quella frana ha messo fuori uso parte del binario! E senza comunicazione radio! Non abbiamo modo di avvisare l'ingegnere prima che il treno ci si schianti! Proviamo a sistemare il binario in tempi record! O proviamo ad avvisare l'ingegnere ferroviario! Se noi comunicheremo potremo fare entrambe le cose! Sì! Ok! Raggiungo il binario e avverto l'ingegnere! E io inizio a togliere le rocce! Vedrai che questo scavatore rimuoverà i detriti in un attimo! Salve! Aspetti! Rallenti! I binari sono danneggiati! È pericoloso! Deve frenare! Mason James, non riesco ad attirare l'attenzione dell'ingegnere! Devo fare qualcosa di più eclatanti! Oh oh! I binari sono danneggiati! Io ho i materiali e i macchinari per ripararli, ma tu devi rallentare il treno! Forse può aiutarci qualcosa al cantiere! Hmm... Se questi funzionano per rallentare il traffico, magari possono aiutare a rallentare quel treno! Kaila, i nuovi binari non sono fissati! Se il treno li raggiunge, deraglierà di sicuro! Il treno sta rallentando, Mason James! Ma non avrà il tempo di fermarsi e colpirà il binario danneggiato! Non è l'unico problema! Mi sono appena accorto che l'unico macchinario in grado di aggiustare il binario è sul treno! Irrullo compressore! Ok, posso trovare il modo di salire sul treno se tu trovi il modo di far scendere me e il rullo compressore dal treno! Ho trovato! Ma dovremmo avere un tempismo perfetto per farcela! Sì! Il tempismo è... Tutto! Sì! Fatto! Sono sul treno! Tu dove sei, Mason James? Nella gru! A far scaldare il rullo compressore! Il tuo elevatore sta arrivando! Ok, Calla! Adesso mai più! Andiamo! Eccomi! Non preoccuparti! Ti ho preso! È ora che il rullo compressore faccia quello che gli riesce meglio! Schiacciare! Ce l'hai fatta! Ora via dai binari! Si sta avvicinando! Ciaca, 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 ciaca! Chiu, chiu! Questo rullo compressore non è fatto per essere veloce! Di certo però fa bene il suo lavoro! Wuhu! Altri guai in vista per il treno? No! Credo che il treno stia solo dicendo grazie! Grazie! È stato un piacere, treno! Ihi-hah! Dopo una dura giornata di costruzioni, l'avventuriero di fama mondiale, Mason James, adora sfrecciare nel frango con il suo potente pick-up! Vroom! Tuff! Vroom! Plaf! Mason James! Scusami, non ti avevo visto! Non puoi comportarti come un animale selvaggio nel mezzo della città! Guarda quanto fango! Ups! Hai ragione! E se invitassi tutti a farsi un bel super lavaggio? Sì, sarebbe bello! Idea grandiosa! Idea grandiosa! Uscite tutti! Ancora un attimo! Verde! Vai, vai, vai! Iniziamo con lavare la macchina, poi al minimarket, aspirapolvere e per finire la ceratura! Facciamo un passo alla volta! Autolavaggio del super pulito, stiamo arrivando! Ehi, Mason James! Vuoi qualcosa dal minimarket? Alligatore! Ehm... Non penso che il minimarket lo venda! Wow! Un alligatore! Nice, 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 nice! Wow! Che ci fa un alligatore all'autolavaggio del super pulito? Ehm... Gioca a nascondino? Deve essersi perso ed è spaventato! Dobbiamo aiutare quell'alligatore a tornare a casa! Con questi mezzi da costruzione abbiamo tutto ciò che ci serve! Bravo! Ok, ecco il piano! Useremo il bulldozer per bloccare l'uscita! E posizioniamo il camion all'entrata, abbassando l'attenuatore... E poi lo farò uscire! E come? I panini del minimarket hanno un aspetto invitante! Andiamo! Spero che gli piacciano la mortadella e il formaggio! Eccolo che arriva! Snap, 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 snap! Presto! Chiudi il cancello! Sì! Riportiamo questo coccodrillo nella palude! Dobbiamo portarlo abbastanza distante in modo che non torni a vagare in città! Credo che neanche a lui piaccia, Mason James! Così dovrebbe andar bene! Quando saremo alla palude, riaprirò il portellone! Oh-oh! Mason James! La strada non è abbastanza larga e l'alligatore è troppo pesante! Le ruote anteriori sono bloccate e il camion con l'attenuatore sta affondando! Cerca di indietreggiare! Niente! Se vado avanti finisco dritta dentro la palude! Siamo in un bel guaio! Forse no! Ho un'idea! Rimani qui! E dove vuoi che vada? Fate partire il traghetto! Abbiamo un'emergenza e ci serve il tuo aiuto! Mason James è qui! Affondiamo in fretta! Spero tu abbia intenzione di arrivare presto! Vuoi un passaggio? A tutto gas! Ci sei! Puoi farcela! Scala una marcia bassa! Sì! Devi pensare in fretta! Ora riportiamo questo alligatore nel suo ambiente! Ecco un posto felice per l'alligatore! Abbassa la rampa del traghetto! Fate tutti spazio! D'accordo, Kyla! Abbassa l'attenuatore! Ottimo lavoro! Ora quel mezzo ha davvero bisogno di una lavata! Torniamo all'autolavaggio del super pulito! Sicuri che non ci siano altri alligatori? Sì! Perché non vai tu per primo? D'accordo! State tutti indietro! Questo fango ha i minuti contati! Ora siamo come nuovi e senza alligatori! Chi è il prossimo? Oh, io! Fammi solo prendere le merendine e... Oh, accertati di togliere i segni dei morsi! Mason James conduce la sua squadra di costruzione in città dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da sua sorella! Mason James! Ho appena ricevuto un avviso di emergenza! Un'enorme bufera sta avanzando in questa direzione! Mi serve tutto l'aiuto possibile per spostare questa mela! Hai detto mela? È una mela davvero grandissima! Sbrigati! Wow! Questa sì che è una mela gigante! È una scultura per il Museo di Scienze in onore del signor Isaac Newton! Wow! Dobbiamo fissare questa scultura al suo piedistallo prima che arrivi la bufera! Con un po' di lavoro di squadra lo faremo in men che non si dica! Allora, chi era questo signor Isaac Newton? Ha scoperto la gravità! La forza naturale che rende pesanti le cose! Questa di sicuro è pesante! Wush! Wush! Oh oh! Il vento sta facendo scivolare la mela! Raddrizziamo quell'escavatore! Mettiamo un po' di turbo al bulldozer! Ecco il piedistallo! Scaliamo tutti in marcia! Ci servirà il massimo della potenza! Una volta arrivati in cima servirà qualcosa che la tenga dritta mentre versiamo il cemento! Ci ho già pensato io! Andiamo! Kaila! Mi sa che la bufera potrebbe essere già arrivata! Wush! Wush! Sì! Ce l'abbiamo fatta! E ora fissiamo la base col cemento prima che il vento... Wush! Oh no! Il vento ha spazzato via la scultura! È una mela in fuga! Seguiamo quel frutto! Se non impedisco quella delizia rossa di raggiungere il centro della città il nostro municipio diventerà una purea di mele! La mela non sta rispettando il codice stradale! Le uniche leggi che segue sono quelle della dinamica di Newton! Attento, Mason James! Ora quella mela sta inseguendo te! Wow! Wow! Devo andare più veloce! Mi è venuta un'idea! C'è ancora quel grande cantiere vicino al municipio! Potremmo costruire un muro per fermare la mela ma non c'è tempo! Ma c'è una mega gru superpotente! Possiamo monitorarla e trasformare una mela rotolante in una mela volante! Questa è l'idea più pazzesca che abbia mai sentito! Ci sto! Ci vorrà un tempismo perfetto! Oh no! Il vento si sta alzando facendo ruzzolare la scultura ancora più velocemente! Non c'è tempo da perdere! Qualcuno può farmi passare per primo! E se questo muro diventasse una rampa? Vush! Vush! Fantastico! Raggiungiamo la mega gru! Dov'è la mela? Ha appena svoltato sul main street verso la quinta strada! Io sono sulla mega gru! Fammi sapere esattamente quando la mela arriverà al cantiere! Terza strada! Seconda strada! Prima strada! Vai! Presa! Ha funzionato! Sì! Ehi! Sembra quasi un palloncino con lo spago! Guarda qui! Credo di iniziare a capire questa cosa della gravità! Sgonderate le strade! Sgonderate le strade! Oggetto in movimento! Viene verso di te! Ricevuto! Ora è un oggetto a riposo! Portiamo qui la betoniera e assicuriamoci che rimanga così! Io ci sono! Sarà un gioco da ragazzi! Grazie! Direi che questa avventura è stata molto... bruttuosa! È stata fantastica fino in fondo! Meson, guarda! La scultura della mela sfida la gravità! Cosa posso dire? Tutta questa azione mi ha fatto venire voglia di addentrare la gustosa scultura! L'esploratore di fama mondiale Meson James fa zigzag attraverso la città di Matchbox! Ecco fatto! Mi sono perso! Aspetta! È proprio lei! Meson James faccia fatica a credere che hai avvistato un enorme aquila calva in mezzo alla città! È così! Devo solo andare più in alto per trovarla! Beh, io posso aiutarti in questo? Sto venendo da te! Oh, eccoti qui! Ti serve un passaggio? Ci siamo! Wow! È davvero bellissima! Mi chiedo dove stia andando? C'è solo un modo per scoprirlo! Seguiamo quell'aquila! Guarda! C'è un nido! Puoi alzarmi ancora un pochino? Non voglio toccare il nido ma vorrei tanto fargli una foto Questo è il massimo che posso fare! Oh, oh! Kaila! C'è una spaccatura in uno dei rami che sostengono il nido! Attenzione! Per un pelo! Gran bella idea! Grazie! Oh no! Mason James guarda il nido! Wow! Wow! Se non facciamo subito qualcosa quelle uova di aquila cadranno a terra! Dobbiamo sostituire il ramo che è caduto! Mason James sai quanto ci metti un ramo a crescere? Noi non faremo ricressere il ramo noi lo costruiremo! Pensi davvero che possiamo costruire un ramo abbastanza forte da reggere quel nido? Sì! E ci servirà l'aiuto di tutti! Possiamo saldare queste travi insieme per formare il ramo! Sì! E possiamo tenerle in posizione con del cemento a presa rapida! Questo ci aiuterà a fare un buco nella roccia per ancorare il ramo! Sai cosa ci serve per mettere nel foro di ancoraggio il ramo che abbiamo costruito? un escavatore! Le travi sono saldate e reggono bene! E il cemento è pronto per essere versato! Ehm... c'è ancora un problema come portiamo tutta questa roba in alto lassù? A differenza dell'aquila che può volare i nostri mezzi da costruzione non possono farlo! Certo che possono! Magari non abbiamo le ali ma abbiamo una gru enorme! Chi è il primo? Andiamo! Pfff! Meglio sbrigarsi! L'escavatore sta scendendo e il cemento sta salendo! Il cemento si asciuga velocemente! Una volta versato dobbiamo inserire quel ramo d'acciaio il prima possibile! Ok! Voi due siete i prossimi! Oh oh! Problema! Ci servono entrambi i mezzi per fare il lavoro! Se ti va un'idea pazzesca... Io ne ho una! Pensi che la gruppa sa alzare tutto quanto? C'è solo un modo per scoprirlo! Tutti su! Non si chiama cemento a presa rapida per niente! Wow wow wow! Chiaro! Ok! Dobbiamo essere veloci e precisi! Spero solo che questa trave sia forte abbastanza! Il lido delle aquile calve può pesare fino a 90 chili! Accidenti! Avanti! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Oh no! Il nostro ramo si sta spezzando! Non è il ramo! Si sta schiudendo un uovo! Una piccola aquila sta uscendo dal gusso! Oh! Le uova si stanno schiudendo! Mamma aquila sta tornando! Non penso che le serva ancora il nostro aiuto! Ce l'abbiamo fatta! Benvenuti al mondo aquilotti! Salta su! Ti aiuterò a scattare una bellissima foto degli aquilotti! Penso che rimarrò con le quattro ruote a terra per un po'. Non si sa mai Maison James il domani porta sempre un'altra grande avventura! Maison James l'esploratore attraversa la famosissima Alligator Alley della Florida mentre si dirige nelle Everglades alla ricerca del leggendario alligatore con un occhio solo ma poi... aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Sto precipitando! Accidenti! Non preoccuparti riesci a uscire fuori dalla macchina La mia cintura di sicurezza è bloccata il mio gelato si sta assogliendo e c'è anche il mio cucciolo! C'è sempre un cucciolo tieniti forte! Ti tirerò fuori! aiuto! Va tutto bene tieni duro mi serve solo... lui è perfetto devo provare una cosa tieniti forte questa terra dovrebbe stabilizzare il terreno abbastanza da tirarti fuori piano ci sei quasi grazie grazie mille farei di tutto per il gelato un'altra cosa sì ora possiamo andare nell'Everglades grazie Mason James ora forse posso tornare a cercare l'alligatore con un occhio cosa succede? non ci credo il leggendario alligatore con un occhio solo è blu le leggende non smettono mai di sorprendermi Mason per caso hai visto il mio alligatore blu? no ma Mason James credo di sì beh Mason James potrebbe trasportarlo fino a qui deve andare d'emergenza dal veterinario subito questa ricerca si è appena trasformata in un salvataggio forza alligatore ora ti aiuto io un salvataggio è il mio Grazie a tutti.